Ciao a tutte ragazze e ragazze, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti in un video spacchettamento dedicato alla My Beauty Box. Io l'ho già levata comunque dalla sua confezione esterna e la My Beauty Box che vi faccio vedere è quella di luglio 2020 che si chiama Riviera perché è dedicato ovviamente al mare. Non fate caso alle munghette ma tra una settimana devo andare a rifarle, ho già la ricrescita, vabbè, è un mese comunque che le ho. Comunque a parte questo devo dire che purtroppo questa è stata una delle My Beauty Box più deludenti, devo dire la verità, che io abbia mai ricevuto perché veramente pochi prodotti, è sempre molto conveniente rispetto a quanto si paga, eccetera, eccetera, scusate però comunque mi ha un pochettino deluso. Adesso ve la faccio comunque vedere. Allora questa è la My Beauty Box come si presenta all'esterno ho notato con dispiacere che ormai lo scatolo è normale, c'è un normale scatolo a me piaceva molto più quello che c'era una volta, diciamo, con la chiusura a calamita però vabbè, questi sono alla fine piccoli dettagli. All'interno la cosa che devo dire è che come sempre appunto a parte questa carta che comunque mi fa sempre molto impazzire quando le aziende mettono comunque queste carte che le trovo molto bene e molto belle. All'interno abbiamo come sempre la brochure dove ci spiega i vari prodotti e abbiamo anche un buono caudalie di un gel doccia il regalo a partire da 29 euro comunque di acquisto e qui c'è tutta la spiegazione comunque dei vari prodotti. Questi sono i prodotti ricevuti nella My Beauty Box e devo dire che, allora, non è che sia deludente al 100% perché comunque abbiamo un prodotto make-up anche se è della linea Astra e va bene abbiamo un integratore della Swiss che quindi penso sia la cosa che costa di più però per il resto abbiamo delle... questo è un olio per i capelli, ora ve li faccio vedere però le restanti cose sono un campioncino e due mini size quindi insomma non le My Beauty Box comunque belle, corpose, piene di prodotte come eravamo abituati a vedere. Adesso vi faccio vedere comunque i prodotti uno per uno. Allora, ecco qui, innanzitutto abbiamo questo integratore della Swiss capelli, pelle e unghie e sto leggendo che praticamente è una formulazione multivitaminica infatti all'interno abbiamo biotina per il mantenimento di capelli e pelle sane e poi ha il selenio che contribuisce, diciamo, a dare... è un alleato comunque contro lo stress delle cellule per mantenere delle unghie sane. Tra l'altro la cosa particolare è che è un integratore che si beve infatti se ne assumono due cucchiaini al giorno durante o immediatamente dopo i passi quindi praticamente a stomaco pieno e può essere preso da solo oppure diluito. Qui mi dice in acqua o anche in succo di frutta quindi comunque bisogna andare a vedere anche il gusto che ha questo integratore, insomma. Poi abbiamo questo prodottino di Astra luminostouch, illuminante in crema e la colorazione che mi è arrivata è la 01 è una full size e praticamente dovrebbe essere tipo un dorato sul rosa, è 30 ml e può essere utilizzato sia sugli occhi che comunque sul viso. Questo sono curiosa di provarlo però per adesso lo tengo da parte farà parte, diciamo, del mio progetto cose per la casa della quale vi ho fatto un video che devo comunque caricare sul canale quindi ve ne parlerò presto e quindi per adesso questo non lo apro. Due prodottini che sono invece arrivati in mini sites sono questo della Gerald che è un latte doposole ve lo faccio vedere da solo questo latte doposole appunto della Gerald che si chiama Amalfi vediamo se riesco qui a trovare la descrizione praticamente si poteva scegliere o comunque arrivavano uno dei prodotti o il latte doposole come il mio oppure una crema idratazione profonda quindi sono molto contenta che mi sia arrivato un latte doposole questo qui penso di utilizzarlo ora perché ho già messi da parte dei doposole quindi dato che è piccolino vorrei utilizzarlo dopo un piccolo weekend che faremo a settembre quindi questo assolutamente comunque lo utilizzerò ora e quindi lo vedrete nei prossimi video prodotti finiti. Altro prodotto in mini sites che è arrivato è questo di Caudalie che comunque è una traversezza da 25 ml ed è una crema solare viso però vi dico la verità ragazze sono contenta che sia una traversezza questa perché comunque io la 50 non la utilizzo mai benché meno sul viso io parto dalla 30 ma perché ho una pelle comunque scura che non ha bisogno della 50 non mi sono comunque mai bruciata utilizzando la 30 e quindi questa mi va più che bene comunque questa la terrò invece da parte e poi magari più in là vi dirò come mi sono trovata la utilizzerò però penso prima del matrimonio insomma vedremo un po' quindi su questo ci devo ancora pensare però insomma ecco questa è la travel sites quindi già stiamo parlando di prodotti più piccolini quindi le due full sites sono quelle che vi ho fatto vedere prima e qui abbiamo i due prodottini della Elgon allora questo si poteva scegliere io ho preso l'olio per i capelli perché si poteva scegliere fra shampoo, balsamo e olio capelli io ovviamente ho scelto l'olio perché non ha senso prendere solo una mini size di shampoo, di balsamo e quindi ho pensato all'olio che invece è un prodottino che si può utilizzare molto più facilmente e poi la cosa che più mi ha deluso è comunque questo campioncino sarebbe una crema anticrespo ma come tutti i campioncini i campioncini possono servire se tu hai intenzione di comprare un prodotto di acquistare il prodotto e quindi ovviamente lo provi quindi ci sa che venga inserito un campioncino però non ci sa che venga inserito un campioncino al posto di un altro prodotto perché in realtà io mi aspettavo un prodotto seppur in travel size ma più piccolino come è arrivato tra l'altro ad altre ragazze non so se la scelta è stata dovuta al fatto che comunque io abbia preso l'olio però ci sono ragazze che hanno ricevuto invece lo shampoo, una travel size della LinkedIn che io non ho ricevuto e vi faccio vedere che appunto qui è inserita infatti scriverò un'email comunque al servizio clienti per capire se la scelta è dovuta al fatto che comunque io abbia preso l'olio e quindi ragazze ecco qui i prodottini che ho trovato all'interno della box come vi dicevo potrebbe essere una box molto più bella secondo me e soprattutto la box Riviera magari da una box Riviera mi sarei aspettata magari una matita occhi qualcosa di un po' più particolare ma in realtà sì c'è molto per la cura del corpo sono contenta dell'integratore e dell'illuminante per il resto un po' così fatemi sapere voi che cosa ne pensate se avete un abbonamento My Beauty Box e niente ragazzi scrivetemi un commento qui sotto vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video ciao